Su Marte è intensa la metà della nostra. Calcolando le nuvole e la polvere arriva sì e no l'intensità dei nostri crepuscoli. Se volete accomodarvi siamo pronti. Ci serviremo di questa macchina epidemiascopica per vedere ciò che le lenti dei marziani rilevano. Avvicinatevi. Grazie. Ecco come i marziani ci vedono. C'è uno spostamento nel loro spettro. Il loro assorbimento di colori è differente dal nostro. Vediamo come gli apparivate voi signorina Van Buren. È ora di partire, amici. Andiamo.